Il vincitore della categoria Mediomassimi è il numero 9, Francesco Pagliari, campione Mediomassimi 2011, terzo campionato italiano nato al bodybuilding e fitness, è la NPSI, congratulazioni, la ProCard per accedere agli Europei, Cristian a buon istante, facciamo avanzare tutti gli atleti, due a sinistra di Cristian e due a destra di Sanna, portate la coppa avanti, sistemate le vostre piedi, prendetevi per mano, sulle mani! Categorio Mediomassimi 2011, NPSI! Grazie, grazie!